se dico corri mi raccomando corri giusto scusa cammino giusto ok corrigo Corri, 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 corri! Non ho tanto bisogno di liberare lo stesso. E' straordinario, non è un'accia. Dica cosa ha il pepino con il pepino? Si, infatti è vero che sto giocando di liberare anche. E' sempre fissa, perché tanto è 360, fa tutto lei. E' un casino, si. E' un casino, non è un casino, non è un casino. E' un casino, non è un casino. E' da lì che sono partiti? Ma secondo me tuo papà non è buono. Vabbè, tanto tornerà giù il furgone, no? No, ma sai che c'era l'anno scorso, gliel'avevamo detto pure, era successa la stessa cosa, non era salito fino a su. E lui non ci aveva creduto che era quello il motivo. Quindi almeno adesso è un po' testardo. Almeno adesso si fa un'idea più chiara. Poi non è che avevo capito che era così. Guarda, gli ultimi saranno due metri, ma hai visto che agilità che ci vuole nel passo? Cioè c'è una cosa che ti tira dietro, il vento, la raffica, è tutto un insieme che non può... Certo, non è uno scherzo, si può... Esatto. ...avvisare, no? Vabbè, se Ezio poi dopo riesce a fare il miracolo... Anche l'atterraggio, è un momento che può essere perfetto, come può, che ne so, ti può sortare una caviglia. E questo vento è tutto quello che facciamo noi o ce n'è? Questo è il vento nostro, la nostra velocità. Sì, se è tutto sì. Una volta in buono non possiamo più sentire il vento. No, certo. Non lo so, le vuoi le altre? No, non lo so. No, non ho più accesso al trezzo. No, un paio di foto. Ah, tu così lo lasci in. Quando serve è accesso. Una bella idea. La mantiniera pure è un bel centro, eh. Mantiniera eccezionale. Che boss. Beh, un bel servizio, tra i ammai. Sono andato in fondo alle 4, c'era lui che cantava, una tribù che balla, è stato, ora mi è emozionato tanto e mi sono incazzato perchè non ci sono andato. Sarà una cazza, era una bella festa. Invece ho visto, non sarebbe 10, ho visto, ma dalla mattina, non è stato l'evento, dalla mattina ho visto solo positività. L'ultimo, quello dove i camper adesso, l'ultimo, quello non l'hanno aperto neanche, non c'è stato bisogno. Sì, poi veramente è stato andato tutto liscio, nonostante tante migliaia di persone. Stanno litigando un po' al comune per prendere il merito. Eh, che ammaggio. Se non è molto merito è dell'organizzazione. Sì. 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 Sì.